La presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ha finanziato la pubblicazione del catalogo della mostra di maioliche e roba stagnata antiche ceramiche di Burgio, realizzata presso il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina. Un bel riconoscimento ad un evento culturale di alto valore scientifico che esprime, grazie alla bellezza delle opere esposte, le peculiarità dell'antica tradizione artigianale del piccolo centro dell'entroterra grigentino. La mostra, inaugurata lo scorso 11 novembre e in esposizione fino al 20 gennaio 2024, è stata curata da Vito Ferrantelli, Enzo Fiammetta, Sergio Entorre e Maria Reginella, e organizzata dall'Associazione Culturale Promuceb, Museo della Ceramica di Burgio, dalla Fondazione Orestiadi, preseduta dall'Onorevole Calogero Pumilia e dal Comune di Gibellina, con il patrocinio dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Cascina dell'Università di Palermo, struttura scientifica del Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo, diretta da Maria Concetta di Natale. L'esposizione sta registrando un'ottima cornice di presenze anche durante il periodo festivo. La volontà, da parte della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, di pubblicare il catalogo della mostra, oltre a dare rilevanza scientifica all'iniziativa, sancisce e rafforza pure il felice connubio tra due città d'arte siciliane, Burgio e Gibellina. Nel catalogo saranno pubblicati vasi, alberelli, bottiglie, cilindri, piatti, ciotole di varie dimensioni, con decorazioni foliale e zoomorfe, prodotti in età moderna, allestiti da Enzo Fiammetta nelle teche del prestigioso Museo Belicino, che offrono ai visitatori un escursus completo sullo sviluppo dell'antica tradizione ceramica delle botteghe burgitane. Il tutto grazie alla generosità e alla sensibilità di collezionisti privati che, con il prestito delle loro opere, hanno permesso la realizzazione di questa mostra. Inoltre la mostra è molto apprezzata dagli esperti del settore, che ne sottolineano il valore artistico e scientifico, valutando l'iniziativa come un importante evento culturale internazionale che riguarda il mondo delle arti decorative. Il catalogo sarà poi presentato prima a Gibellina e poi a Burgio. Nella qualità di curatore della mostra, insieme ad altri insigni studiosi, ma anche come presidente dell'associazione ProMuceb, Museo della Ceramica di Burgio, sono molto lieto di apprendere e di comunicare che la presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ha deciso di finanziare la pubblicazione di un catalogo della mostra Roba Stagnata, antiche ceramiche di Burgio, in questo momento in mostra e fino al 20 gennaio, al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina. Personalmente considero questo un riconoscimento alla qualità delle opere esposte, alla sensibilità dei collezionisti privati, ma soprattutto al valore scientifico che esprime la mostra confermato dalla presenza e dall'afflusso di tanti visitatori e dal consenso di studiosi e operatori del settore.